È ancora folta la colonia aquilana che dal post-sisma vive e risiede a Pizzoli, comune di oltre 5.000 abitanti, a pochi chilometri dal capoluogo. 16 Pizzoli, poi, non puoi non pensare allo scandalo di Banca Etruria, una sorta di cassaforte per i risparmi di migliaia di pizzolani, rimasti con un pugno di mosche dopo il decreto salvabanche. Domani a Roma il Comitato Risparmiatori, il primo ad essersi formato in Italia, terrà un incontro per cercare di ottenere rassicurazioni sui rimborsi che gli obbligazionisti chiedono in toto e senza distinzioni. Domani a Roma con Nicastro ci sarà l'incontro che è stato concesso al Comitato e credo che lì si farà un po' il punto e la situazione e si capirà meglio come andrà a finire questa vicenda. A oggi i risparmiatori hanno cercato in tutti i modi di far sentire la loro voce e di portare all'attenzione del governo questo tipo di problematica. Non mi pare che il governo stia rispondendo nel modo che i risparmiatori vorrebbero, però loro insistono e non hanno intenzione di mollare. Forse l'incontro con Nicastro potrebbe essere il punto di partenza per una soluzione diversa da quella che è stata proposta, perché quella proposta non è accettabile.